La strada del dottor Nozaradan. Essere sovrappeso per lui è intollerabile e la sua soluzione è una dieta a base di acqua, solamente acqua. Che metodo è? In collegamento telefonico abbiamo il dottor Nozaradan. Dottore, mi riceve? Sì, la ricevo. Salve! Grazie della sua presenza. Ti parli un po' di questa dieta dell'acqua e perché funziona così bene? Signor Onder, la mia dieta dell'acqua è l'unica in grado di far dimagrire certi grassoni che superano i tre quintali. È un po' drastica. Ma va di bene che io non sono così cattivo perché concedo lo sgarro settimanale, un po' di acqua frizzante. L'acqua frizzante come sgarro settimanale? Che cosa risponde a chi la giudica un po' troppo severo? Rispondo che vadano a fanculo. Dottore, si contenga, la prego, siamo in diretta. No, quando ci vuole, ci vuole. Comunque io le chiedo, non le sembra un po' troppo esagerata? Anzi, è molto magnanima. Addirittura... Adesso prescrivo 72 ore di digiuno prima di poterla iniziare. Ma se il paziente festeggia il compleanno o ci si trova di fronte alle feste natalizie, che cosa deve fare? Deve andare a fanculo e portare le chiappe al supermercato dove ci sono tante belle bottiglie d'acqua. Dottore, io la devo salutare. Non posso più tollerare questo turpiloquio. Arrivederci. A quanto mi frega.